Sono molto soddisfatto, non pensavo, però penso che sia la strada giusta per far sì che qualcuno non qualunque si impegni a fare chiarezza su questa cosa. Io non faccio politica su questa cosa, sia chiaro, assolutamente. Ho agito in coscienza, penso che sia giusto, però qualcuno dovrà dirmi se sbaglio, se faccio giusto, per carità. Io sono un uomo di istituzioni e seguo quello che mi rilano. Grazie a tutti.